e siamo qua siamo qui per commentare la youtuber league juventus milan allora ragazzi io non voglio dirvi com'è finita questa partita perché perché magari qualcuno ancora non ha visto è dato che in tanti mi state accusando di spoiler quando io in realtà ho sempre solo pubblicato immagini a partita pubblicata sul canale di fede marconi che è uscita martedì 25 10 alle ore 13 o 14 a seconda di quando lo vorrà mettere questo video uscirà dopo la partita pubblicata da fede e quindi io non voglio dirvi il risultato siamo arrivati fin qui sto parlando da quasi 40 secondi se siete ancora dentro e non siete usciti significa che avete già visto la partita e quindi sapete già il risultato e quindi siete pronti allo spoiler ultimo avvertimento se non avete ancora visto uscite ok adesso sono affari vostri prima di iniziare il video volevo ringraziare soccerment e xid per il contributo che hanno dato alla mia prestazione di milan juventus youtuber league purtroppo non per via di xid il parastinque intelligente che va a salvare tutte le vostre statistiche dentro la partita ho fatto schifo lui mi ha semplicemente ricordato di quanto sono scarso a giocare grazie appunto alla sua tecnologia mi ha detto che ho toccato il pallone facendo 43 passaggi di cui il 67 per cento proprio col sinistro il 33 per cento con il destro e quindi questo probabilmente spiega il perché io avevo fatto così schifo all'interno di questa partita molto molto bene fantastico però ho tirato molto forte beh poi ho tirato forte ma quel rigore ok non voglio farvi spoiler agli 87 chilometri orari molto forte non lo so forse per le mie caratteristiche e ho fatto sette tiri tre col mancino e quattro col destro e poi vabbè la mia prestazione è stata terrificante ma voi che siete più forti di me a giocare a calcio potete cercare di migliorare i dati raccolti da xid vi lascio il link qui sotto in descrizione per acquistare il parastinco intelligente una buona vittoria della juventus siamo riusciti a strappare un 7 a 10 totale a milano e ci siamo qualificati per la prima finale la finale d'andata e ora dobbiamo soltanto aspettare di capire se sarà contro l'alassi o la roma o il napoli anche se da quanto ho capito è molto complicato che che possa essere la roma anzi forse matematicamente impossibile e quindi sarà una tra alassio e napoli poi vedremo dove si giocherà se sarà in trasferta se sarà che per me trasferta anche torino dato che sono più vicino più comodo addirittura a milano però mi piacerebbe provare ad andare anche magari a napoli che è un campo che non ancora non ho ancora mai calpestato semplicemente dato che questa estate la summer cup l'abbiamo fatta a roma la partita con l'inter abbiamo fatto a torino la partita con milano a milano tra tutte quelle disponibili mi manca soltanto napoli e sarà anche nel caso un ambiente molto caldo ho visto il video che ha pubblicato fede sempre per napoli roma e sarà così caldo per la roma figuriamoci per come potrebbe essere eventualmente per la juventus non ci resta altro che attendere l'esito del derby di roma per capire ragazzi avete visto tutti la partita avete visto tutti che cosa è successo rispetto a juventus inter il livello secondo me si è alzato molto della nostra rosa perché sono entrati luca campolunghi e nick dei footwork che avevamo già avuto insieme per la summer cup aveva fatto assolutamente il suo anche quest'estate ha già fatto il suo anche col milan giocatori di livello alto molto molto alto che vanno a rinforzare una rosa che vedeva comunque un fratino già in ottima forma per la partita contro l'inter un fene che si conferma su alti livelli anche per la partita contro il milan e se vogliamo un uno zoccolo un po meno duro per citare anche l'alertone del milan composto da da me lello e dalla maschera perché ovviamente lello per dire è la maschera hanno fatto la loro grande partita anche sto giro però probabilmente sul livello generale andiamo un pello indietro c'è anche il ritorno del buon chino quindi abbiamo ritrovato lello e chino insieme due grandi amici con i quali ho sempre il piacere di lavorare e collaborare sul canale se riusciamo a fare anche delle partite di calcio giocato oltre che delle chiacchierate sul calcio teorico beh è tutto più bello non c'erano michele degli autogol perché aveva un impegno non c'era nicola dei footwork perché aveva un impegno pure lui non c'era il mister non c'era tatino ah giusto dimenticavo il pippega che era già presente con l'inter e che anche col milan direi che ha fatto abbondantemente il suo e adesso voglio cercare anche di raccontarvi un po le dinamiche dietro nascoste perché ovviamente quando abbiamo fatto le convocazioni poi il giorno prima due giorni prima mi sono sentito con fratino che devo dire la verità è molto molto carico per questo discorso mi fa piacere vederlo così dentro al progetto anche se la sua fede è rivolta ad un'altra squadra lui è veramente molto molto lui vuole proprio vincere a un carattere che va in quella direzione e abbiamo cercato di mettere giù una formazione titolare io in primis anzi praticamente la scelta di non partire è stata mia ma perché banalmente ragazzi se penso a quello che è il potenziale offensivo che ha questa juventus e quindi con nicolas fratino e pippega a centrocampo abbiamo deciso di schierarci con questi tre sulla linea mediana e davanti luca campolunghi non posso assolutamente sognarmi di andare a lottare con nessuno di questi per il posto da titolare perché luca ha giocato in categorie molto alte poi ha avuto dei problemi fisici e l'avete visto ha segnato sei gol solo lui ci ha procurato un rigore veramente ha fatto una partita clamorosa clamorosa fratino potrebbe giocare ben più secondo me di una banale terza categoria e ha voglia proprio di dimostrare di far vedere che siccome ha fatto una partita incredibile di sacrificio si è messo molto a disposizione rispetto alla partita con l'inter dove era stato assoluto protagonista ma col milan è stato protagonista senza avere bisogno di scrivere il suo nome sul tacquino dei marcatori nick e pippega hanno fatto una partita anche loro di assoluto sacrificio sono riusciti comunque a trovare anche la via del gol e chi nolello e maschera lì dietro si sono dati una mano incredibile nelle rotazioni qualcuno aveva gli acciacchi qualcuno meno io ero pienamente consapevole di poter dare meno rispetto alla partita con l'inter proprio perché la presenza di luca andava a cambiare completamente gli scenari e dato che luca non era al 100 per cento sul finale del primo tempo gli ho chiesto il cambio gli ultimi dieci minuti forse qualcosina 12 minuti ho cercato semplicemente di lottare di alzare la squadra di offrire qualche pallone giocabile agli avversari ai compagni a discapito degli avversari mentre nel secondo tempo secondo me c'è stata la necessità di cercare di bloccarsi un attimo perché la sensazione che ho avuto io da fuori vedendo la partita perché appunto ho deciso di iniziare in panchina proprio perché il livello era troppo più alto rispetto al mio era di una juve pienamente padrona del campo il fatto che andiamo in vantaggio di tre gol a zero e poi iniziamo a prendere qualche gollettino ogni tanto addirittura al 3 a 2 si avvicinano gli altri al pareggio ma la motivazione era solo una che forse c'eravamo anche un po appoggiati complice appunto questa ottima grandissima partenza e soprattutto con un attaccante come luca in grado di finalizzare correttamente quasi tutte le palle gol a disposizione quindi è ovvio che io per dire che sono un attaccante che non fa mai gol e luca è un attaccante che fa sempre gol beh allegri diceva ci sono le categorie beh ha ragione nel calcio ci sono le categorie e quindi siamo stati in grado veramente di finalizzare di capitalizzare quasi tutte le occasioni offensive e abbiamo questa predisposizione a stare particolarmente alti perché comunque frattino un giocatore offensivo perché il pippega praticamente un attaccante gli abbiamo chiesto di fare l'esterno perché nick gli abbiamo chiesto di giocare a centrocampo ma anche lui è uno che adora andare verso l'alto lo ricordate la summer cup ha giocato addirittura punta fece tripletta alla lazio luca è una punta a tutti gli effetti io stesso per dire sono una punta e infatti prima della partita ho chiesto a chino e a lello di rimanere bloccatissimi dietro e a fra di essere sempre caldo perché sia chino che lello a livello fisico non erano proprio centratissimi perché c'era bisogno anche di un po tra virgolette di gregari io chino lello e fra siamo un po più gregari rispetto ai quattro davanti che possono inventarsi in qualsiasi momento una giocata un gol un'occasione veramente abbiamo un potenziale offensivo secondo me di altissimo livello e allora serve anche quel giocatore un po più nascosto sono dai riflettori e chino e lello secondo me era la coppia perfetta da far partire sono giocato anche molto bene poi ovvio che anche dall'altra parte c'erano delle individualità molto forti l'avete visto giocatori del milan che riuscivano anche loro a creare delle le occasioni dal niente riuscivano a tirar fuori dei gol dal cilindro però secondo me chino lello e fra hanno letto molto molto bene la situazione e secondo me c'era questo senso di forte superiorità poi ovvio che nel milan mancava per dire zoccolo duro mancava samuel mancava isma che non conosco ma avevo visto nella partita con l'inter mancavano dei giocatori invece noi quasi avevamo tutte le disposizioni anzi avevamo un paio di giocatori fuori ma perché non riuscivano loro però secondo me eravamo decisamente più forti di loro ero tranquillissimo il giorno prima invece sentivo i ragazzi che erano molto molto tesi probabilmente anche proprio per questo no quando sai di non giocare una partita quando capisci di essere semplicemente una sorta di ricambio comunque di spettatore infatti io mi sono sentito quasi più allenatore l'altro giorno che giocatore e immagino che si sarà visto io ancora oggi non l'ho visto il video di fede però sono stato molto a dare indicazioni proprio perché secondo me c'era bisogno di di ragionare perché livello tecnico per quanto mi riguarda era decisamente più alto da parte nostra e quindi c'era bisogno di non cadere nella tentazione di volere strafare o di scoppiare semplicemente livello fisico infatti nel secondo tempo quando sono entrato mi sono veramente reso conto di di aver bisogno di essere un po più bloccato ho fatto una scorazzata in cui ho quasi fatto gol portiere me l'ha presa non so come su un bel assist di pippo e poi c'è stato quel rigore che che mi hanno parato anzi che mi hanno parato che ho buttato fuori e infatti è proprio qua che voglio andare a parare no che riprende anche il titolo del video è il secondo rigore che sbaglio all'interno di questa competizione il primo proprio ai rigori contro l'inter per l'eliminazione diretta e il secondo invece è stato proprio in partita e io vi dico la verità vabbè a parte il fatto che sono scarso ma questo lo sapete non ho mai nascosto io gioco a livello amatoriale quindi la categoria più bassa in assoluto nel calcio in cui giochi semplicemente per il piacere di stare insieme divertirti andare a mangiare una pizza bere una birra dopo allenamento e basta autofinanziamento si gioca a lunedì sera si fa un allenamento solo si fa la partitella proprio a livello fisico il minimo indispensabile solo per il gusto di stare insieme però in una squadra del genere per dire tante volte quando abbiamo rigori ma ultimamente di rigore non ce ne danno tanti perché difficilmente anche arriviamo nell'area avversaria e li tiro io e li ho sempre tirati di punta come ho fatto esattamente con l'inter dove è stata parata la fantabetta però io gioco a calcio a 11 sono abituato anche a una porta più grande e infatti l'altro giorno quando pippo diceva fammi pippo e fratino discutevano noi diceva pippo fammi tirarmi il rigore che faccio la tripletta e fratino diceva io non ho ancora fatto gol vorrei batterlo io sono arrivato e ho detto ragazzi se volete lo batto io io sono guardati loro due mi hanno ceduto il pallone ma io per rigore l'avevo già sbagliato lì avevo già sbagliato lì quel rigore perché non avevo intenzione non avevo idea di come tirarlo perché ripeto io l'ho sempre tirato di punta sono abituato a una porta più grande sono abituato anche tante volte al portiere che vuole fare bella figura e quindi sceglie battezza un lato e si butta da quel lato e quindi sai lo tiri di punta centrale forte solitamente entra invece l'altro giorno perché l'avevo sbagliato la volta prima di punta in una porta più piccola ho detto prova a batterlo di piatto prova a scegliere un lato prova a batterlo sotto la traversa sempre semplicemente da un lato ma vado di piatto e l'avevo sbagliato avevo sbagliato già lì perché nel mentre che prendo la rincorsa non ho ancora deciso dove batterlo e lo batto di qua e lo batto di là e lo batto di su lo batto di giù la palla si alza si impenna e sbaglio e sbaglio clamorosamente il secondo rigore della mia youtuber league e vi dico la verità nel tornare a casa perché ero in macchina prima di juventus empoli sono stato tanto tempo a ripercorrere a rimmaginarmi quella rincorsa lì perché mi ha dato noia è ovvio che sono felicissimo no di essere passato la fase finale sono anche felice del fatto che la squadra sia girata molto bene sono felice di essere stato anche tra virgolette abbastanza maturo ma ribadisco cioè ci voleva poco essere maturi loro sono più forti giocano loro e poi ovviamente ci diamo il cambio perché comunque è un contesto di amicizia in una competizione in cui non vogliamo perdere ma è giusto anche mantenere un certo livello di dignità di amicizia siamo stati molto bravi anche a gestirci questa cosa anche senza tatino che era quello che poteva dare le indicazioni e quindi sai parti un passo indietro non la giochi tanto poi sbagli anche il rigore il il gol che potevo fare è stato parato dal portiere non è andata come poteva andare sono tornato a casa un po arrabbiato con me stesso con me stesso perché c'è meno soddisfazione di buttare dentro il rigore della gloria farà finire 11 a 7 segni anche te diventa una festa è ovvio che quando invece sbagli il rigore ti rimane qua aggiungo che poi il giorno dopo io sono andato a giocare per i fatti miei con la mia squadra e abbiamo fatto 0 a 0 in una partita in cui gli altri rimangono in 10 praticamente alla fine del primo tempo anzi un po' prima non siamo in grado di capitalizzare le tantissime palle gol avremmo avuto 10 15 palle gol a disposizione sbaglio all'inizio del secondo tempo un gol di destro molto facile ne sbaglio un altro verso la fine della partita di mancino dopo una respinta dentro l'area di rigore ma io il mancino lo uso a malapena scendere dal letto e avevo pure fatto gol avevo fatto gol in pallonetto ma la palla era entrata faccio gol in pallonetto la palla era entrata dopo l'ingresso un mio compagno la calcia in porta l'arbitro pensa che l'abbia calciata prima dell'ingresso la nulla per fuori gioco e finiamo con la partita 0 a 0 dopo una partita dominata giocato un uomo in più contro degli avversari che era il nostro stesso livello quindi livello medio basso e non riusciamo ancora a fare il primo gol stagionale dopo tre partite quindi non riusciamo a portare a casa nemmeno la prima vittoria quindi capite che è stata una due giorni a livello personale di calcio giocato molto tosta perché il giorno prima sbaglio quel rigore il giorno dopo sbaglio un paio di gol e quello che faccio anche discretamente bello perché un gol in pallonetto sai non è mai una banalità e mi viene annullato sono stati due giorni che mi hanno fatto masticare amaro però ovvio che adesso ne parlo molto tranquillamente io sono convinto che questa squadra questa juve della youtuber league possa decisamente dire la sua e possa assolutamente anche vincere alla fine possa giocarsela con tutte le squadre visto il napoli molto forte la lastima conosciamo perché ci abbiamo già giocato anche quest'estate sono una squadra forte però noi siamo anche un bel gruppo siamo un bel gruppo sappiamo ognuno di noi che cosa può dare infatti credo che per le prossime partite avrò necessità di abituarmi al fatto che luca lì davanti non lo si può levare perché troppo più forte quindi quando entrerò quando sarà il mio turno un po più simile al secondo tempo dove c'è bisogno anche di un po più di equilibrio quindi una sorta di esterno un po più bloccato perché noi tendiamo tanto ad andare avanti ma come dicevo prima servono anche quelli che rimangono dietro perché è vero che se fai un gol in più degli avversari vinci sempre però l'altro giorno col milan e magari dal video seppure visto potevamo vincere secondo me con 12 13 gol fatti e forse anche qualcuno in meno subito ma forse anche qualcuno in più perché il milan comunque ha preso tante traverse ma si poteva anche limitare qualche qualche gol preso da parte del milan semplicemente usando un po più di concentrazione che in campo è difficile da mettere un conto da fuori la vedi la ragioni sei tranquillo perché non devi collegare il cervello ai piedi al cuore ai polmoni invece in campo è sempre un po più complicato però sono davvero convinto che questa juve possa fare decisamente bene sono felicissimo di far parte di questo gruppo di essere il capitano è ovvio che per me nel cuore c'è più quello juve inter dove mi sono sentito anche molto più protagonista rispetto a questo in questo milan juve mi porto a casa sicuramente la gioia la soddisfazione di essere arrivato in finale ma anche il rosicare perché questi due rigori sbagliati devo dire la verità mi hanno mi hanno dato fastidio mi hanno dato fastidio ma questa è una roba mia personale con cui dovrò combattere è un un'avventura con cui dovrò cercare di convivere e anche uno stimolo magari a migliorarsi e imparare a non solo battere i rigori di punta magari ma anche a utilizzare meglio il piatto perché io proprio a livello tecnico sono scarsissimo infatti sono il classico giocatore no che quando gioca lì davanti molto bravo far sportellate a far delle sponde ma difficilmente poi riesco a convertire in maniera pulita una palla gol perché gioco molto spesso spalla alla porta in funzione dei miei compagni e invece quando non gioco davanti gioco sempre in funzione dei compagni ma utilizzando tanta quantità tanta corsa perché a livello fisico comunque mi sento bene nonostante qualche chilo di troppo ma questo poi verrà smaltito magari con gli anni con un po di attenzione in più sotto il punto di vista dell'alimentazione ma mi piace mangiare mi piace avere qualche birra ogni tanto quindi vabbè quello non è un problema però sto bene a livello fisico sto bene ho tanta corsa tanto fiato quello non è un problema e quindi sono spesso abituato a giocare in funzione dei miei compagni soprattutto come in questo caso in questa youtuber league dove ci sono dei giocatori nella mia squadra in grado veramente di risolvere da soli le partite diversa la condizione invece della mia squadra normale dove gioco dove siamo meno male tutti su quel livello lì e forse c'è bisogno di prendersi un po più di responsabilità ma poi è sempre quello il problema quando il livello è medio basso e sei tutti lì su quel livello lì può succedere tutto e forse anche quello è il bello lato youtuber league mi sento sereno e tranquillo perché veramente abbiamo dei giocatori molto molto forti e secondo me l'abbiamo dimostrato anche in questa occasione e quindi cercheremo di vincere una finale per una volta lato juventus dato che solitamente non lo facciamo è anche vero che un campionato in un campionato di solito siamo più forti rispetto alle coppe fatemi sapere un po cosa ne pensate sotto nei commenti fatemi sapere se un video di riflessioni di questo tipo vi può far piacere anche per l'eventuale finale e niente forza juve